Mary Assimwe, classe 2015, Ariella Matovu, nata il 10 luglio 2023, e Janita Appio, nata nel 2022. Sono loro le tre bambine salvate grazie a Pobic, l'associazione di Paolo Novellini, che ha una delle sue sedi a Bozzolo, che a Gennaio è stata in Uganda e, parlando con i referenti locali, ha appunto capito le condizioni gravi delle tre bimbe portate in Italia. Tra giugno e luglio sono state operate al cuore al Gaslini di Genova e tutte e tre hanno passato la visita di controllo, tanto che a breve torneranno in Uganda. Le abbiamo viste, le abbiamo visitate, abbiamo capito la loro gravità, le abbiamo portate in Italia, adesso sono guarite. Mercoledì torneranno in Uganda con le loro mamme, accompagnate, ieri abbiamo fatto l'ultimo check, le bambine stanno benissimo, l'operazione è andata bene, i Gaslini è il solito ospedale fantastico che cura e risolve i problemi di tutti i bambini, noi siamo veramente molto contenti. Alla Pobic è festa, ma c'è anche la consapevolezza che il lavoro non è finito. Le tre bambini operati infatti sono quelle che avevano maggiore urgenza, ma per malattie cardiovascolari hanno stati segnalati almeno altri 56 casi. Pobic ha sostenuto tutte le spese per i nostri bambini, seguendoli passo dopo passo anche nelle cure assieme al Gaslini. Siamo davvero grati di questo e speriamo che altri bambini in queste condizioni possano essere salvati da progetti come questo. Per questo l'appello è a sostenere Pobic. È chiaro che l'azione umanitaria non finisce qui, perché noi cerchiamo, chiediamo di aiutarci con l'adozione di stanza, 9 euro al mese. Possiamo garantire loro le cure, il futuro, la scuola e completare tutti insieme l'azione umanitaria di Pobic. L'importanza di un'associazione così anche su un territorio piccolo. Il Bosolo è piccolo, l'associazione è piccola ma di salvare i bambini non c'è nessun confine. È importante che siamo una piccola associazione ma facciamo una cosa grande, quindi è importante salvare la vita. Il grazie è delle mamme di Ariella e Giannita e della sorella di Mary. Per tutte loro verrà organizzata una festa finale prima del ritorno a casa. Grazie per aver ridato speranza ai nostri bambini, ora possiamo sorridere. Ora mi sento ottimista per il futuro della mia sorellina e tutto questo grazie a Pobic Italia, Pobic Uganda e al team del Gaslini. Grazie di cuore. Che Dio benedica l'intero team di Pobic per quello che ha fatto per la mia ienita.